quella di roma e dell'impero romano è una storia di più di mille anni che ha inizio dalla fondazione della città nel 753 avanti cristo e che in occidente si conclude nel 476 dopo cristo con la deposizione dell'ultimo imperatore romano ad opera di un re barbaro ripercorreremo le tappe fondamentali di questa storia lunghissima adottando come punto di partenza il mito della fondazione della città esso ha infatti una marcata valenza identitaria perché contiene per così dire il dna del popolo romano e allo stesso tempo i presupposti o pilastri della sua storia vediamoli insieme il primo pilastro è dato dall'idea della civitas ed è riconoscibile nel ruolo che la leggenda assegna a romolo e al rito di fondazione dopo aver aggiogato i buoi il futuro re di roma traccia il solco delle mura con l'aratro il pomerium il confine imbalicabile è un gesto molto significativo che ci consegna un importante tassello dell'identità culturale dei romani i romani non sono solo un popolo in armi ma anche e soprattutto un popolo portatore di civitas civitas è una parola che indica la città come comunità di cittadini che si è data una precisa organizzazione politica come romolo i romani fondarono moltissime città diffondendo i valori le istituzioni e le norme della civitas della città e dello stato la res pubblica e proprio ai romani dobbiamo un termine che usiamo ancora oggi per indicare l'ordinamento del nostro stato repubblica la res pubblica al passaggio dalla monarchia alla res pubblica alle istituzioni repubblicane e alla loro evoluzione nel corso dei secoli dedicheremo la prima parte del nostro percorso Grazie a tutti! Grazie a tutti!